A chi appartengono i 32 quadri storicamente custoditi al Monte di Pietà? A due mesi esatti dall'estinzione del debito capestro che legava Fondazione Cassamarca a Unicredit, il presidente Luigi Garofalo solleva la questione della proprietà delle opere pittoriche che nei secoli si sono aggiunte alle pareti di quello che è il secondo Monte di Pietà più antico d'Italia dopo il Monte dei Paschi, quando nel 2004 per 5 milioni e 100 mila euro Fondazione acquistò il Monte di Pietà da Unicredit affittandolo subito dopo allo stesso istituto di credito, acquistò stando al contratto anche le cosiddette pertinenze. Nelle pertinenze vanno certamente inseriti tutti questi quadri che sono a ornamento dell'immobile, pertanto riteniamo che siano di spettanza della Fondazione Maioscritt, una lettera 17 gennaio all'amministratore delegato di Unicredit rappresentandogli che abbiamo la questione in piedi e che quindi verifichi egli stesso se vi sia un titolo poziore più forte del nostro di fronte al quale si debba da parte nostra prendere atto dell'eventuale proprietà di Unicredit e non di Fondazione. I primi carteggi risalgono al 2019 da tre anni, quindi Garofalo non riesce ad avere da Unicredit una risposta con una valenza giuridica. Anzi, il colosso bancario di fatto parla delle opere come gli appartenessero e il timore che alla scadenza del contratto di affitto a fine 2022 gli attuali occupanti si portino via pure i quadri, il più antico dei quali risale al 1478. Per non meglio precisate ragioni Unicredit si ritiene proprietario di quei quadri ma non riesce almeno per il momento a esibire un titolo superiore al nostro. Garofalo confida nell'attuale amministratore delegato ma nel carteggio con i precedenti referenti era stato addirittura diffidato da reiterare la richiesta appena una denuncia, tanto che lo stesso progetto di rendere visitabile la splendida cappella dei rettori era stato bloccato. Non una questione economica, quella che riguarda i quadri, sottolinea il presidente di fondazione, ma storico-culturale. L'importante è che rimangano là dove sono collocate da secoli e che da domani o almeno da quando Unicredit se ne andrà diventino nuovamente fruibili da tutti.